e adesso alla professoressa Silvia Pallecchi dell'Università di Genova eh che abbiamo voluto in quanto eh fresca autrice di un ennesimo suo volume eh il cui titolo è quasi pedistiquamente ripreso dal titolo dell'intervento titolo principale è ritessere e raccontare. Il libro poi si chiama ehm appunti sulla comunicazione dell'archeologia mentre invece oggi la professoressa Pallecchi ci presenterà delle riflessioni che appunto si inseriscono in questo percorso di note tecniche. Se è pronta le cedo la parola. Grazie. Allora buongiorno a tutti. Io mi eh associo rapidamente ai ringraziamenti delle che hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduta eh sia eh per eh per tutti quelli appunto che hanno eh organizzato questa questa giornata e che ci hanno permesso oggi di essere qui in questa sede prestigiosissima sia eh naturalmente alla eh alla Mirella che eh che ci ospita eh direttamente e eh e vado appunto rapidamente a ehm a cominciare eh la comunicazione oggi eh costituisce ormai una tappa eh integrante e eh ineludibile del processo di ricerca e eh all'interno di questo processo svolge un un compito delicatissimo che è quello di andare a esplicitare eh gli obiettivi le modalità di lavoro ma anche condividere quelli che sono i progressi e i dubbi della eh della ricerca e alla fine restituire i ehm i risultati. Si tratta di una questione che è eh di eh primaria importanza eh non solo perché è proprio attraverso le diverse tappe di questo processo che si va a giustificare eh l'impegno anche l'impegno economico eh che eh che la comunità le comunità eh sostengono per lo sviluppo delle ricerche ma anche perché è solo attraverso la condivisione eh di questi e di questi processi e di questi risultati che le ricerche possono eh contribuire allo sviluppo della vita delle eh comunità e anche alla costruzione del loro futuro. Eh da questo punto di vista la comunicazione fa quindi eh a pieno titolo parte eh del lavoro dell'archeologo e del ricercatore che devono essere in grado di scegliere gli argomenti da raccontare, di semplificarli senza eh forzature, senza banalizzazioni e non ultimo di integrare le informazioni frammentarie per renderle pienamente comprensibili anche ai non addetti ai lavori. La selezione del materiale da eh utilizzare per le iniziative di questo genere, per le iniziative di comunicazione rivolte alla eh comunità eh rispetto a quello che invece è meglio conservare per le presentazioni scientifiche è probabilmente uno degli aspetti più complessi della questione anche perché non esiste una soluzione eh unica che sia valida per tutte le tipologie dei dati archeologici e anche per tutti i contesti di eh destinazione. Il fatto è che eh per risultare efficace la comunicazione deve basarsi su una selezione ben ragionata eh di quello che è il materiale eh disponibile una selezione che vada da una parte a privilegiare eh ciò che anche agli occhi dei non addetti ai lavori, dei meno esperti può apparire ehm significativo e rappresentativo eh delle realtà e della storia che si eh che si intende narrare dall'altra parte eh deve riuscire a ehm adottare anche un un criterio di economia un criterio che eh permetta di evitare eh ripetizioni e ridondanze che che finirebbero appunto per indebolire l'iniziativa. Allo stesso tempo eh la scelta dei dati e la strutturazione del messaggio dovranno tenere in considerazione anche le caratteristiche del pubblico o dei pubblici eh che si eh saranno eh individuati come target primari della eh comunicazione e eh nell'ambito di questa selezione sarà eh fondamentale eh cercare di valutare bene ciò che effettivamente potrà essere eh compreso dal pubblico a cui ci si rivolge ma anche ciò che potrà catturare e mantenere la sua attenzione. Questo perché in una eh buona comunicazione in una comunicazione che risulti efficace gli argomenti di quest'ultimo genere cioè quelli che eh riescono a catturare a mantenere eh l'ascoltazione dell'uditorio potrebbero essere strategicamente utilizzati eh anche per veicolarne altri eh per trasportare eh e veicolare altri messaggi che magari di per sé potrebbero avere una una pilla eh minore. Tutto questo secondo me eh implica la necessità di una formazione specifica eh del degli archeologi che appunto intendano svolgere eh attività di questo tipo una formazione che credo dovrebbe eh cominciare già durante gli studi di archeologia eh perché se l'esperienza sul campo è eh essenziale è fondamentale diciamo è una ehm un'esperienza è una eh una caratteristica senza la quale diciamo non non ci si può assolutamente formare eh di fatto secondo me è è altrettanto importante altrettanto cruciale acquisire una consapevolezza critica dei metodi delle modalità e degli obiettivi della comunicazione. Il passaggio eh tra la ricerca e la comunicazione infatti eh come diceva prima anche la 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 dottoressa Calandra è un passaggio che dall'esterno può apparire eh semplice e e naturale ma nella realtà non lo è affatto eh si tratta in realtà di un di un processo che comporta la ehm costruzione di una consapevolezza importante del modo in cui funzionano la nostra attenzione e la nostra immaginazione e quindi si tratta di un processo dinamico eh che richiede una riflessione costante e anche un adattamento continuo a quelle che sono le nuove sfide e le nuove opportunità eh non solo in in termini di eh evoluzione delle tecnologie eh sulle strategie per la costruzione e per la gestione della comunicazione in altri ambiti in ambiti diversi dall'archeologia esistono ormai da decenni studi applicazioni che hanno raggiunto livelli anche molto alti eh io penso che una maggiore contaminazione con queste esperienze probabilmente potrebbe eh arricchire in maniera anche eh sostanziale eh quelli che sono gli strumenti teorici operativi di cui noi eh disponiamo oggi. Oggi peraltro viviamo in un'epoca che è eh caratterizzata da una trasformazione significativa dei sistemi di gestione delle eh comunicazioni. È una trasformazione che abbiamo dovuto affrontare in maniera eh molto rapida, in maniera eh forzata e in maniera generalizzata a partire già dai primi momenti, no? Dai primi mesi dello sviluppo della della pandemia. È una trasformazione che oggi ci restituisce una comunità eh caratterizzata da un approccio diffuso alle tecnologie della comunicazione e da un livello di relazioni e interconnessioni che solo tre anni fa sarebbe stato eh impensabile. In questa situazione eh la gestione professionale dei nuovi mezzi di comunicazione eh per declinare il racconto dell'archeologia nei tanti linguaggi che caratterizzano eh da una parte diversi mondi della cultura e dall'altra ai diversi strati della società eh rappresenta per gli archeologi una sfida importante e anche una grandissima occasione per cercare di rivitalizzare il rapporto con le eh comunità. Dobbiamo saper sfruttare al meglio le possibilità offerte dai nuovi eh media senza trascurare l'importanza dei mezzi di comunicazione tradizionali che possono essere riletti, rivisti e adattati alle nostre necessità e ai nostri obiettivi. Su questo fronte anche in Italia stiamo assistendo a una sperimentazione importante che credo si possa interpretare come il risultato di un bisogno di incontro, un bisogno reciproco eh che viene espresso sia dagli operatori dei beni eh culturali che dal loro potenziale pubblico. Io penso eh ad esempio ai ai diversi romanzi e racconti che sono usciti negli ultimi anni a firma di tanti bravi eh colleghi e che dimostrano la grande, la grandissima potenzialità del linguaggio narrativo per la trattazione anche di temi eh seri e e complessi. Oppure penso anche alle tante sperimentazioni che adottano il linguaggio comunicativo dei fumetti e e a quelle che prendono altre strade come le trasmissioni radiofoniche, la eh il piccolo e il grande e il grande schermo diciamo eh e in generale a tutte le ehm spesso preziosi e preziosissime iniziative che in questi anni si stanno rapidamente moltiplicando sulla rete e nelle sue diverse eh declinazioni. Non so se li conoscete tutti, se non li conoscete ve li lascio come eh come indicazioni e come suggerimenti, sono tutti grandi esempi e grandi e grandi lavori che ci danno un po' un'idea di eh di quello che si sta eh muovendo oggi eh nel nel campo della della comunicazione naturalmente da questo da questo punto di vista. Eh da questo punto di vista sul fronte della eh comunicazione nei musei e nei parchi archeologici più in generale per quello che riguarda eh le varie eh realtà in qualche modo istituzionalizzate esistono esperienze e bibliografie anche molto ricche che sono in in continuo aggiornamento un pochino più vabbè questa era per per prima. Un pochino più problematica mi sembra invece la la situazione della ehm comunicazione relativa ai cantieri archeologici cioè a quelle aree in cui ancora si fa ehm si fa ricerca e questo è un tema eh che secondo me è un tema abbastanza delicato su cui spesso si riflette ehm troppo poco e e al quale quindi vorrei eh provare a dedicare qualche minuto. Un cantiere di scavo archeologico è inevitabilmente un intervento di interesse pubblico che eh oltre alla eh comunità degli studiosi ha come committenti e come fruitori privilegiati le comunità di di riferimento. Il fatto è che eh come come anticipava prima eh Emanuele Papi la storia che si indaga che si recupera e che si ritesse nel corso delle ricerche costituisce ovviamente un patrimonio collettivo come lo sono anche le tracce materiali reperti mobile e immobili che il cantiere riporta alla luce e come sono anche i fondi di solito eh quasi sempre con cui le indagini sono portate avanti. Per questa ragione mi sembra fondamentale che in tutti i casi è possibile in cui è possibile farlo garantendo l'incolumità delle persone e dei beni le operazioni di comunicazione eh vadano a affiancare il processo della ricerca già dalle sue prime fasi. Eh un ehm un cantiere archeologico eh che si trovi in un abitato o che si trovi in una zona eh rurale che porti alla luce dei contesti che sono sconosciuti diciamo altrimenti sconosciuti o che intervenga su realtà eh della cui presenza diciamo eh già si ha eh notizia è qualcosa che suscita sempre interesse e eh e comunità e e eh curiosità nelle persone che frequentano il territorio. Questa curiosità che è una eh che è una cosa legittima, una curiosità diciamo eh che che ehm è pienamente giustificata si basa sulla consapevolezza del fatto che esistono eh forme di organizzazione spaziale e materiale diverse da quelle attuali alle quali si intuisce che corrispondano modi di vita eh differenti. Questa consapevolezza stimola eh riflessioni sulla complessità dell'esperienza umana oltre che naturalmente su quelli che sono i misteri della vita e del e del tempo e di solito finisce per coinvolgere in maniera profonda l'osservatore. Su questa prima impressione in chi osserva dall'esterno un cantiere archeologico talvolta se ne stratifica un'altra che invece legata ai disagi che la presenza del cantiere comporta nella vita quotidiana della comunità eh che magari si si vede sottratti in maniera eh temporanea o permanente degli spazi, dei beni e dei servizi che ritiene diciamo di sua eh di sua pertinezza. Si tratta di situazioni che devono essere gestite eh che non che non possiamo lasciar perdere ma che dobbiamo attivamente eh cercare di eh gestire non solo per facilitare le attività del cantiere ma soprattutto per fare in modo che oltre che sul mondo della ricerca le indagini che si conducono possano avere un impatto positivo e concreto anche sulla vita quotidiana, sull'assetto culturale e magari eh sulla situazione economica delle comunità eh a cui ci eh rivolgiamo. La gestione del rapporto con la comunità avviene attraverso operazioni di collaborazione e di eh comunicazione che possono giovarsi della lavorazione di una strategia eh comunicativa di eh di progetto. Questa strategia può essere impostata in parallelo all'allestimento del progetto di ricerca e anzi penso che dovrebbe essere impostata in parallelo all' impostazione del progetto di ricerca ma necessiterà comunque di essere eh rivista e rimodulata con il procedere dei lavori e anche con l'evolversi di quelli che sono i legami eh tra il cantiere tra l'equip che lavora e la comunità o le comunità all'interno delle quali eh eh si eh si lavora. In generale eh le attività eh di comunicazione connesse ai cantiere archeologici possono essere dirette e svolgerci svolgersi cioè nell'ambito di un momento di incontro effettivo tra l'equip dei ricercatori e i destinatari della comunicazione oppure indirette cioè immediate da un qualche sistema informativo. Tra i sistemi indiretti più utilizzati ci sono quelli che conosciamo quindi pannelli illustrativi, materiale a stampa eh diciamo l'utilizzo in in vario modo compresse tutte le eh i sistemi che ci permettono le ehm le nuove tecnologie quindi sistemi anche interamente digitali come le app, i siti web, forum, blog, eccetera. L'utilizzo di ehm testi e immagini eh che permettono appunto di eh legare il il cantiere alla alla comunità ehm per quello che riguarda la eh la comprensione e la condivisione delle procedure operative, degli obiettivi e dei risultati della eh della ricerca. Eh il fatto è che i sistemi di comunicazione indiretta cioè quelli che appunto non prevedono un rapporto, un contatto diretto tra l'equip e eh i suoi eh diretti referenti quindi la la comunità eh all'interno della quale eh si è ospitati e si lavora, questi sistemi eh finiscono per eh perdere quasi completamente la loro efficacia nei momenti in cui l'equip degli archeologi è al lavoro eh in quei momenti l'attenzione dei visitatori di chi in vario modo si approccia alla eh al cantiere tende a concentrarsi sulle attività in corso e per quanto i sistemi eh informativi siano ben organizzati, ben strutturati e strategicamente eh posizionati nella maggior parte dei casi non saranno in grado né di attrarre i visitatori e né di conseguenza di veicolare le informazioni che contengono. In queste situazioni eh se non si interverrà con una comunicazione aggiuntiva il visitatore probabilmente si allontanerà insoddisfatto con la sensazione di non avere avuto accesso a una parte importante dei contenuti della visita. Per questa ragione nei periodi in cui l'equipe è al lavoro sul sito è assolutamente fondamentale programmare una qualche forma di interazione diretta tra i ricercatori e visitatori. Si tratta di un'attività che sicuramente richiede tempo e energie ma che spesso fa la differenza in termini di efficacia comunicativa. In queste situazioni la comunicazione avviene per lo più in forma orale aiutata dalla gestualità del dell'operatore dalla situazione materiale del cantiere e eventualmente anche dal ricorso ad alcuni supporti grafici che possono essere proposti con varie eh modalità. Sì sì so so corro. Quanto tempo ho? Poco. Benissimo. Allora corro. Eh allora eh quando le caratteristiche del sito del cantiere lo consentono si può adottare una forma di comunicazione che si avvicina a quella della living history organizzando eventi in cui la storia del sito e le sue caratteristiche vengono eh illustrate da operatori in costume d'epoca. È una soluzione piuttosto impegnativa in termini di tempo di lavoro e di gestione delle risorse ma una situazione che se è ben gestita può portare dei risultati importanti e eh determinare anche delle ricadute economiche immediate sulla comunità di riferimento dei progetti. Tra l'altro insieme all'equipe dei eh ricercatori le attività di questo tipo possono coinvolgere direttamente anche le comunità locali che attraverso la partecipazione si approprieranno più facilmente delle iniziative e ne ottimizzeranno i risultati eh eh nel caso di siti pluristratificati si dovrà scegliere se sviluppare una narrazione in prospettiva sincronica focalizzandosi cioè su una fase specifica della vita del sito o una narrazione diacronica privilegiando il trascorrere del tempo e le informazioni e le trasformazioni dei contesti della vita quotidiana qui per esempio siamo eh perdonate a San Bartolomeo al mare in provincia di d'Imperia un sito di età romana probabilmente un amanzio e un sito che si trova in una posizione decisamente interessante per quello che riguarda la comunicazione perché eh siamo all'interno di un abitato turistico e il sito eh si trova direttamente al di sotto delle strutture di una scuola eh quindi abbiamo una serie di eh interlocutori privilegiati oltre alla eh alla comunità dei residenti abbiamo anche eh tutti i residenti temporanei tutte eh tutti i turisti e naturalmente abbiamo eh la scuola con gli insegnanti e con e con gli studenti in questo caso si è optato per una narrazione di tipo sincronico eh con una eh una scelta di alcuni tematismi ehm strettamente correlati alla alla storia alle funzioni alle modalità eh di utilizzo del del sito e abbiamo deciso di eh organizzare appunto degli eventi che si svolgevano eh diciamo al ritmo di due alla settimana eh eventi eh di apertura del del cantiere al al pubblico e durante questi eventi una parte della dell' equipe in costume diciamo da costume storico eh interpretava appunto una una comunità di di persone che che facevano diciamo temporaneamente rivivere il il sito eh al racconto diretto in prima persona della storia del del sito si affiancavano alcune attività eh di ehm archeologia sperimentale eh che permettevano di coinvolgere le famiglie e bambini diciamo in in un percorso interessante tra l'altro un aspetto particolare che il il gruppo diciamo dei ehm delle persone degli operatori che si occupavano di queste eh di questi eventi eh aveva caratterizzato in maniera molto importante i ehm i personaggi eh che eh che rappresentavano personaggi che avevano una un nome proprio e che eh intessevano diciamo tra loro dei rapporti dei rapporti eh anche di tipo di tipo personale per cui eh diciamo nel corso delle visite questi personaggi rappresentavano in certi casi delle scenette eh che eh permettevano di interagire con con il pubblico e che erano differenti ad ogni rappresentazione d'accordo? A ogni eh visita. Questo serviva a fidelizzare un po' il il pubblico soprattutto le famiglie soprattutto le famiglie con con bambini che tornavano anche più volte anche eh due volte alla alla settimana a vedere il il sito da una parte eh per essere aggiornati sull'evoluzione eh dei lavori che si svolgevano sul cantiere dall'altra parte anche per seguire l'evoluzione delle vicende dei eh dei personaggi no? Quindi una una sorta di calamita dell'attenzione attivata sulle vicende dei personaggi che permetteva di trainare eh la la il racconto del procedere delle eh ricerche. Rapidissimamente un un altro caso questo è un caso eh di narrazione diacronica il sito è quello di Policastro Bussentino in Campania in provincia di Salerno questo invece è un sito eh pluristratificato con una stratificazione importantissima che va almeno dal quinto secolo avanti Cristo fino alla metà del sedicesimo dopo quindi qui la storia eh eh è potente lunga e molto eh complessa quindi qui abbiamo scelto una una narrazione diacronica che si sviluppa un po' come un un viaggio nel tempo eh quindi abbiamo qui una serie di operatori eh vestiti in maniera fortemente caratterizzata in maniera da ehm da rappresentare anche visivamente eh le diverse eh a ehm le diverse età diciamo le diverse fasi eh di vita del sito e attraverso questa eh caratterizzazione degli abiti si cerca in qualche modo di riposizionare nello spazio e nel tempo le diverse tappe della storia del del sito che sono eh testimoniate sul sito da una serie di eh resti sparsi nell'area eh archeologica che eh agli occhi dei non addetti ai lavori eh non riescono ad avere una una profondità nel nel tempo qui la visita si svolgeva si svolge in realtà questo è un evento che che è ancora in corso eh si svolge alla fine delle eh campagne di eh di scavo eh per alcuni giorni e e e funziona così i gruppi i visitatori a gruppi vengono eh presi eh e guidati all'inizio dalla dall'operatore che eh rappresenta diciamo uno dei primi abitanti della del sito e porta a a vedere eh i diversi eh resti eh della eh di quella fase spiegandoli e cercando di di guidare l'immaginazione di di chi ascolta per percepirli e per immaginarli così come dovevano essere sullo scorso del del quinto secolo poi finita la narrazione accompagna il gruppo eh presso un un operatore che eh che che svilupperà la narrazione successiva e e così diciamo si svolge in una in una sorta di viaggio nella nel tempo ho finito ho finito eh questo era per dirvi che esistono eh esiste tutta una serie di ehm frontiere della comunicazione di piattaforme della comunicazione eh che ancora sono poco esplorate dal punto di vista della dell'archeologia eh mi riferisco appunto ai tanti eh mondi virtuali e qui ve ne ho messi solo solo alcuni eh che attualmente ehm ospitano si stima trecentocinquanta milioni di persone eh di utenti quindi sono una una piattaforma molto importante sono mondi all'interno dei quali possono prendere vita eh musei esposizioni eh archivi eh sale di di conferenze all'interno dei quali si possono si potrebbero sviluppare tutta una serie di iniziative guidate da eh operatori ehm specializzati che potrebbero assumere nei confronti degli utenti un po' la funzione dei trailer che indirizzano diciamo il il pubblico verso le migliori proposte per il piccolo e il grande eh schermo eh tutto questo perché i nostri messaggi possono essere declinati in in tanti eh in tanti modi in tante maniere diverse senza rinunciare al rigore che contraddistingue la nostra ricerca ma approfittando però con coraggio eh della grande varietà e dei eh e dei tanti linguaggi di cui disponiamo e questa secondo me oggi è una delle eh delle sfide maggiori che eh che ci troviamo davanti. Concludo rubando le parole a una a un grande maestro che su questi temi ha lavorato e lavora con passione nel cui pensiero mi riconosco eh profondamente eh se vogliamo davvero offrire un futuro al patrimonio culturale dobbiamo non solo conoscerlo ma anche condividerlo e eh penso da subito eh come dicevo dal dall'inizio di un progetto di di ricerca il compito degli studiosi e delle istituzioni oggi in fondo è tutto qui. Grazie. Allora. Grazie a Silvia Pallecchi che ha veramente ritessuto contesti e canali che poi esploreremo nel seguito del convegno. Grazie a Silvia Pallecchi.